Dopo due sconfitte interne, sfatato il tabù casalingo, i Corallini vincono 3-1 a Liguri con una prestazione maiuscola. Inizio gara di marca Corallina, quinto minuto punizione di solo a tre quarti, dinuncio sul secondo palo fatatore per Santaniello che manda di poco alto. A quindicesimo Ghislanti a destra va il prossimo smarciato dal portiere Cardinali con la difesa che rinvia corto, con Franco che ha postato al limite tira a rete costringendo il portiere ospite al doppio intervento. La Duris inizia a fiutare il colpo del KO, Franco dai 30 metri scaglia un tiro che colpisce l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere ospite e subito dopo i Corallini passano in vantaggio con una manovra fluida e ben orchestrata. Ghislanti crossa per Giannone che con una zampata mette la palla nel sacco ed è 1-0. I Corallini continuano a premere sull'acceleratore con Leonetti in grande spolvero, si guadagna una punizione dal limite battuto magistralmente dall'inesauribile Tascone che mette la palla sopra la barriera per il 2-0. Nel finale di primo tempo al 44 è una più bella trama di gioco che per via centrali passa per i giocatori con più qualità, Franco, Leonetti Santaniello e Giannone che con un colpo sotto colpisce il palo. Nella ripresa la Turis rischia in due occasioni con il centravanti Carletti che si divora il gol del 2-1 che arriva al 54esimo grazie alla punizione del difensore Nicolao che batte l'incolpevole Perina. I Corallini riprendono il palino del gioco e al 60esimo Leonetti segna dal limite dell'aria con un tiro preciso che si insacca alla destra del portiere 3-1. All'87esimo rigore dubbio Perillatina tira Rossetti che si lascia ipnotizzare dal portiere Corallino Perina abile a tuffarsi alla sua destra. Il match si chiude con qualche sottita offensiva degli ospiti ma il risultato rimane sul 3-1 e la Turis si porta al secondo posto con 13 punti alle spalle del Bari capolista e domenica i Corallini saranno di scena proprio al San Nicola per un inaspettato scontro al vertice.